I soldi che hanno preso via la Lega e investiti in diamanti in Tanzania erano soldi provenienti dal finanziamento pubblico dei partiti che sono soldi delle tasse degli italiani, tutto qua, serenamente. Perfetto, quindi se ha sbagliato verrà condannato dalla giustizia italiana e se verrà condannato io gli vado a chiedere indietro i soldi che lo Stato aveva assegnato a me come Lega e lui è usato per fare altro. Ecco la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che congela i soldi della Lega, emessa sul ricorso della Procura di Genova, emessa nei confronti di Matteo Salvini, Vice Premier, Ministro dell'Interno. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Salvini, senatore calabrese, leader di un partito che oggi si chiama Lega e che ieri invece c'era la Lega Nord per l'indipendenza della Padania. La Guardia di Finanza, delegata dai PM di Genova, può quindi sequestrare ovunque venga rinvenuta a qualsiasi somma riconducibile al carroccio, fino all'ammontare di 48.969.617 euro. Sono i soldi della truffa ai danni dello Stato sui riborsi elettorali, soldi che la Lega avrebbe sottratto durante la gestione del senatore Umberto Bossi e dell'ex tesoriere Franco Belzito. Soldi individuati da chi? Dalla dia di Reggio Calabria, nell'indagine che l'attuale procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo svolse parallelamente ai colleghi delle procure di Napoli e Milano, quindi di Genova. Il magistrato, che dai mamma santissima di archi all'ex ministro dell'interno, ne ha arrestati a migliaia e che poneva al centro delle sue investigazioni proprio Franco Belzito per i suoi affari con soggetti in odor di indrangheta. Napoli perse la competenza sulle indagini, Milano e Genova arrivarono ai processi e alle condanne. Reggio Calabria, invece, dopo perquisizione a tappeto, non è ancora arrivata ad uno sviluppo processuale del filone Belzito. Sullo stesso solco è stata sviluppata e portata davanti ai giudici l'inchiesta che ha fatto finire in carcere l'ex ministro, oggi sindaco Claudio Scaiola, e da cui da anni scappa il suo ex collega Medeo Matacena. Sul filone madre, invece, è calato il silenzio, ma secondo indiscrezioni anche Reggio non avrebbe mai smesso di indagare. Punto a capo. Da Reggio Calabria per la Cineus 24.